Ecco qua se puoi fermarti un secondo, lì a sinistra c'è l'entrata degli impianti, ci sarebbe la porta, praticamente ci sono tutti gli impianti dove stiamo aspettando un'opera. Abbiamo effettuato perizie assicurative, abbiamo visto centinaia di danni purtroppo ad abitazioni, ad aziende produttive, ad attività commerciali per parecchi milioni di euro. È sceso subito dopo la fase acuta dell'alluvione il gruppo di periti che da Mogliano è arrivato in Romagna per svolgere perizie assicurative e valutare i danni causati dalle piogge eccezionali che hanno colpito il territorio lo scorso maggio. Siamo stati sostanzialmente in provincia di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Ci siamo mossi nelle immediate settimane successive all'evento con una squadra di lavoro costituita da dieci persone e con l'ausilio di un vero e proprio ufficio mobile che ci ha dato la possibilità di coordinare e gestire al meglio l'attività. Abbiamo potuto constatare la devastazione che può creare un evento atmosferico di tale portata oltre ai danni materiali che abbiamo accertato nelle varie case, nelle varie aziende che abbiamo visitato. La cosa che mi ha toccato di più e che mi ha impressionato è stato il transitare con i nostri mezzi lungo le vie delle città coinvolte e vedere i mucchi di materiali, di beni accattastati a bordo strada e vedere tra questi mucchi anche i giocattoli dei bambini ha lasciato il segno. Popolazione quella romagnola che non si è mai lasciata battere dalle condizioni critiche lasciate dall'alluvione. La popolazione romagnola si è dimostrata una grande popolazione, una popolazione molto orgogliosa, molto laboriosa. Gente che fin dalle prime ore successive all'evento, all'alluvione, si è data un grande affare per bonificare, risanare e ripristinare la situazione al meglio e nonostante l'avversità che l'ha colpita è riuscita molte volte a salutarci con un sorriso.